Passione è la parola d'ordine dello spettacolo pronto a debuttare al Teatro della Fortuna di Fano. La Casa della Cultura ospiterà venerdì e sabato alle ore 21 e domenica alle 17. Stanno sparando sulla nostra canzone con Veronica Pivetti nel ruolo della protagonista della storia di Giovanna Gra, incentrata negli anni 20 quando l'epidemia di Spagnola era ormai un lontano ricordo. Tra proibizionismo, malavite e spregiudicati, l'atmosfera si infuoca grazie a una storia d'amore romantica, ma allo stesso tempo drammatica. Uno spettacolo che coinvolge tutte le emozioni a 360 gradi. Veronica, intanto le chiedo che personaggio interpreterà? Una fioraia, non solo una fioraia, una signorina povera che vende fiori di giorno ma di notte spaccia oppio. E oggi ha detto metà spettacolo. Sì, una donna molto tosta, una donna anche dura. Insieme riesce ad essere anche ingenua, cosa molto complicata, essere duri e ingenui però è così. Una pratica, una che patisce tanto per amore, insomma tante sfaccettature anche molto controverse, però quante volte noi siamo così, siamo una cosa e il suo contrario. E Jenny Talento, si chiama Jenny Talento, Talento non so, vedete voi, è così, è fatta così. Avete detto che non mancheranno baci e bracci ma anche violenze. Sì, un po' di schiaffoni volano, devo dire un po' di schiaffoni, però se ne danno tanti, io ne do parecchi, quindi sono abbastanza soddisfatta. E però ci sono tanti baci, si litiga e si fa la pace, insomma c'è molta passione, la passione è fatta anche di queste cose. Non deve mai trascendere, mai, questo lo dico seriamente. È davvero un grande lavoro di squadra, avete sottolineato anche questa intesa che c'è tra tutti i personaggi e lo staff. Sì, per essere in uno spettacolo con solamente tre persone bisogna per forza essere coesi in qualche modo. Non è del tutto scontato, ma infatti la fortuna ha voluto, come questo teatro, ha voluto che noi ci trovassimo tutte e tre, io, Veronica e Brian Boccuni che non c'è in questo momento. Siamo riusciti a creare qualche cosa che probabilmente trascende anche la dimensione dello spettacolo. Probabilmente il nostro bel rapporto viene fuori anche oltre il palcoscenico, quindi siamo molto fortunati. Con questo spettacolo proposto nel cartellone di Fano Teatro non mancano le analogie con l'epoca attuale e soprattutto un messaggio che si vuole lanciare attraverso la storia portata in scena, quello di incoraggiare le donne che si tuffano in un mondo ancora maschilista. Quando è nato questo spettacolo? Questo spettacolo è nato durante la pandemia, siccome non potevamo avere nessun contatto umano, abbiamo cominciato a riflettere sull'amore, sulle nostre passioni e qui è nata questa grande storia tra questi personaggi negli anni venti di tanto tempo fa, del 1900, con dei parallelismi ad oggi e racconta veramente una passione sfrenata tra un uomo, una donna e un ragazzo con ovviamente tutte le difficoltà che la vita presentava allora e che in fondo presenta anche oggi. Sono fondamentali anche le musiche in questo spettacolo? Il processo creativo è stato piuttosto complesso e laborioso perché abbiamo voluto fare un lavoro originale, un lavoro molto nuovo, ovvero accompagnare le emozioni che il testo suscitava con delle canzoni, delle hit, delle canzoni molto famose che si inserissero nel testo, quindi che potessero accompagnare l'emozione del pubblico. E pensiamo di esserci riusciti. I arrangiamenti musicali sono stati curati da Alessandro Nidi e Delio Baldi Cantù. La compagnia incontrerà il pubblico nell'ambito dell'iniziativa denominata Oltre la Scena, sabato 17 dicembre alle ore 18 sempre a teatro. Venite tutte tre le sere, datemi retta, lo spettacolo ha sempre delle novità, venerdì, sabato e domenica, poi diventiamo amici e facciamo tutti insieme.